Dopo l'estate, lo spettacolo delle corti a mezzanotte è pronto a nutrirsi anche della magia dell'inverno, delle feste natalizie. Galatina si prepara ad un viaggio nel tempo, partendo dal Medioevo fino ad arrivare al mondo contemporaneo. L'appuntamento è per il 28 dicembre, a partire dalle 19, quando le piazze e i vicoli della città ospiteranno giocolieri, mangiafuoco e sbandieratori, ma non solo. Grande protagonista sarà infatti la musica, da quella popolare a quella di epoche lontane, dal ritmo della capoeira alle movenze della danza del ventre. Immancabile il percorso del gusto e dei sapori tipici del Salento, che delizieranno il palato dei visitatori. Tutto questo in una serata che punta ai riflettori sulla splendida Galatina. Le corti a mezzanotte nasce come brand sul territorio, in modo particolare per la città di Galatina, che ha avuto quest'estate un notevole successo nel mese di agosto, con 30.000 presenze distribuite nella splendida cornice del centro storico di Galatina. L'abbiamo voluta riproporre nel periodo invernale, proprio per dare, in un periodo naturalmente, in cui è fermo tutto, dare quel valore aggiunto sul territorio, che possa creare economia e movimento per quella piccola percentuale di turismo locale che c'è anche durante il periodo natalizzo, ma anche per il pubblico locale stesso. Ci piaceva l'idea di creare delle attrattive differenti tra di loro, quindi affinché la manifestazione non fosse monotematica, al tema medievale abbiamo affiancato delle cose un po' più moderne. Alcune saranno un po' una sorpresa nel finale. L'arte, attraverso le sue numerose forme, anima quindi un progetto di marketing territoriale che lega il pubblico al privato, con l'obiettivo di rendere appetibile il Salento 365 giorni all'anno. La provincia non può non sostenere questa iniziativa che è straordinaria, appunto proprio nell'ottica delle politiche di destra giornalizzazione. È una provincia abbastanza dinamica, attiva, nel senso che molti comuni, molte associazioni, molti privati, insieme, in sinergia, praticamente stiamo cercando di fare il massimo per poter promuovere questo nostro territorio.